L'associazione Promidea e la città di Montalto Fugo hanno realizzato un progetto finanziato da fondi europei per accogliere circa 30 profughi di nazionalità diverse. Questo è un arricchimento, è un arricchimento per loro ma è anche un arricchimento per i cittadini di Montalto. Se si allargano le frontiere è giusto che veniamo a contatto con altri popoli, altre civiltà. I cittadini di Montalto hanno innato il senso dell'accoglienza, quindi questo progetto cade a proposito. È chiaro che un grande applauso va fatto all'Urban Center che oltre a questo progetto sta portando avanti numerosi altri progetti che fanno di Montalto veramente un avamposto per quanto congene l'interpretazione e l'applicazione delle leggi europee. I richiedenti asilo si sono incontrati all'interno dell'Urban Center dove hanno avuto l'opportunità di dialogare con il sindaco della città Ugo Gravina. Al quale hanno anche espresso sentimenti di apprezzamento e di riconoscenza per l'accoglienza ed il calore che hanno trovato nella città di Montalto Ugo.